Le problematiche sanitarie della provincia di Caltanissetta continuano a rappresentare la priorità dell'azione istituzionale delle autorità locali e regionali. Si è tenuta presso la Sala Protezione Civile del Palazzo del Governo una riunione della conferenza provinciale permanente, finalizzata alla promozione di collaborazione sulle problematiche sanitarie che interessano il territorio provinciale in seno. All'evento, presieduto dal prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia, hanno partecipato l'assessore regionale della salute Giovanna Volo, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, quale rappresentante del Lanci, gli altri sindaci della provincia e il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale Alessandro Caltagirone. Il prefetto ha posto l'accento sull'offerta di servizi sanitari sul territorio, evidenziando come solo una strategia operativa comune che tenga conto delle necessità dell'intero territorio provinciale potrà contribuire a migliorare in maniera significativa ed efficace la qualità dei servizi sanitari resi nei confronti della collettività. Poi l'assessore regionale ha ribadito il totale impegno della regione e dell'assessorato della salute, teso a migliorare la rete ospedaliera e in generale i servizi sanitari. Inoltre ha illustrato le diverse iniziative e i progetti, alcuni già avviati, attraverso i quali la regione siciliana sta cercando di elaborare soluzioni efficaci per tentare di superare le variegate problematiche sanitarie. Mentre grande apprezzamento è stato espresso dai sindaci per l'importante occasione di confronto fornita dall'odierna seduta della conferenza provinciale permanente, da parte loro la totale disponibilità a procedere secondo un disegno operativo univoco che, alienandosi da qualunque posizione prettamente locale, consenta di approntare azioni coerenti che nel complesso concorrano a rafforzare la rete territoriale e, più in generale, a migliorare la qualità del servizio sanitario in tutta la provincia.